Sia l'ho dato Gesù Cristo, pace e bene e devo augurare la pace e il bene perché è Gesù che saluta i suoi discepoli con la pace sia con voi. Noi continuiamo a augurarci la pace, purtroppo non sempre c'è pace, quindi l'augurio ma anche impegno che noi assumiamo. Allora in questa domenica, ma io volevo fare anche un riferimento a una figura di cui celebriamo il 25esimo anniversario del martirio. Oggi in questa domenica si parla del Cristo che soffre sulla croce, cioè Gesù chiede ai suoi discepoli, ecco il testo del Vangelo, chiede ai suoi discepoli chi dice chi sì, chi sono io? Ecco, quasi una specie di indagine per sapere chi è lui. E i discepoli rispondono le cose più varie, Giovanni Battista, Elia, uno dei profeti. E poi Gesù si rivolge direttamente a loro e dice ma voi chi dite che io sia? È la domanda che noi dobbiamo porre noi stessi, ma chi è Gesù Cristo per noi? E a nome di tutti si fa portavoce Pietro, al solito Pietro è quello che in qualche modo esprime il suo desiderio, così come l'altra domenica abbiamo visto, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterne perché volevate andarvene anche voi, dice Gesù ai discepoli, che se ne erano andati tutti gli altri, ma voi chi dite che io sia? Qui Gesù chiede ma voi chi dite che io sia? È una scelta personale. Quella che noi invece a volte abbiamo ridotto il nostro cristianesimo più a una serie di pratiche, di devozioni, di cose eccetera. E invece quello che Gesù chiede qui è una decisione per lui, ma una decisione per lui che è una decisione che comporta anche grandi difficoltà. Perché Pietro, dopo aver detto tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Tu sei un atto di fede grandissimo nei confronti di Gesù. Come aveva detto, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Ora invece dice Gesù, egli dice tu sei il Cristo, cioè dice Pietro. Ma Gesù non si ferma a questo. Comincia a parlare di quello che accadrà. Gesù già sentiva dentro che la sua vita era in pericolo e che l'avrebbero ammazzato perché lo volevano fare fuori, insomma. Cioè lui avvertiva. E perciò Gesù dice, cominciò ad insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire. Cioè che il Messia doveva molto soffrire. E qui c'è un'immagine del Messia diversa da quella della tradizione ebraica che voleva un Messia vittorioso con la spada in mano e che sconfiggeva tutti i nemici, eccetera. Perché c'era un'attesa messianica del trionfo, della gloria, del potere che sconfiggeva tutti i nemici del popolo ebreo e quindi anche secondo loro il nemice di Dio. Qui Gesù invece, dopo che Pietro dice, tu sei il Cristo, cioè tu sei il Messia, il Cristo, allora Gesù dice che lui sarà gettato via, cioè sarà ripudiato dal popolo, dagli anziani e dai sommi sacerdoti e dagli iscrivi, cioè da tutti i poteri legali, costituiti, anche religiosi, perché c'erano anche i sacerdoti del Tempio. Quindi tutta la cultura, gli iscrivi, ecco. Però dice Gesù poi sarò ucciso e dopo tre giorni risusciterò. Dopo tre giorni. Ma che significava per loro risuscitare? Non capivano che ci doveva essere un momento di sofferenza, di morte, di persecuzione e poi sarebbe risolto dopo tre giorni. A questo punto Pietro lo prese in disparte, al solito Pietro lo prende in disparte e gli dice ma che discorsi stai facendo? Ecco, cominciò a rimproverare Gesù. Ma Gesù voltatosi e guardando i discepoli invece rimproverò Pietro. Quindi Pietro lo rimprovera Gesù perché aveva presentato una svolta che lui non accettava, cioè un messia che doveva essere perseguitato, ammazzato, anche se poi dopo tre giorni doveva risuscitare ma lui non sapeva che cosa fosse questa risurrezione. E poi invece questa... e poi rimprovera. Crolla, c'è tutto un sistema di attese perché loro si aspettavano ancora i discepoli. Gesù lo rimprovera e gli dice una cosa molto grave. Ecco, lungi da me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Ecco, convocata la folla insieme ai suoi discepoli disse se qualcuno vuol venire dietro a me, rinnechi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Ecco. E chiede a Pietro di seguirlo. Seguimi. Ecco, seguirlo, seguire Gesù. Ecco, mettersi qui. Seguirlo significa accettare anche questo impegno di amore. Non è il Messia che fa le cose straordinarie per conquistare la gente. Non scese dalla croce. Quindi ci scandalizza tutto questo. Perché non fa il miracolo che noi ci aspettiamo. Perciò ci scandalizza. È un Messia che passa attraverso la sofferenza. E volevo io presentarvi in questo venticinquesimo della uccisione del prete Giuseppe Puglisi, parroco di Brancaccio, è un amico sicuramente grande, anche mio compagno di seminario, insomma, non c'è. Presentarvelo proprio come colui che è il discepolo. Cioè lui si mette a seguire Gesù Cristo, di cui era innamorato. Il Vangelo per lui era non qualcosa da ascoltare o da leggere o da ascoltare, ma qualcosa da fare. Perché il Vangelo si fa. E questo è il cristianesimo. Si fa perché diventiamo discepoli, ci mettiamo dietro a Gesù Cristo. E l'amore deve essere così grande, un amore così grande, da non spaventarsi neanche di fronte alla sofferenza che gli altri ci possono dare alla persecuzione, ma anche alla morte che i mafiosi gli hanno inflitto. Perché i mafiosi credevano di spegnere questa voce, così come credevano di spegnere Gesù Cristo. Gli antichi, ecco, nella Giudea, credevano di spegnere la voce e tutto sarebbe finito. E non è finito. E così i mafiosi di Brancaccio credettero di ammazzarlo e di spegnere questa voce, ma non è finita. Sono in carcere. La loro vita non ha più significato, nel senso che non hanno prospettive. Puglisi, ecco, ha dato una testimonianza di amore grandissimo, pur passando attraverso la sofferenza. Ma questo è possibile perché c'è la fede, perché è il Signore che fa risuscitare, cioè non è solo una questione di memoria, ma è una questione di vita, perché l'amore sostiene. Allora non si trattava solo qui di fare un'offerta sacrificale. Dio aveva bisogno di qualcuno che morisse per riparare il male. Dio non ha bisogno di nessuna riparazione. Dio viene incontro a noi perché ci ama. Ci dobbiamo mettere in testa questo. Noi non dobbiamo riparare noi. È Dio che ci viene incontro. Noi dobbiamo soltanto seguirlo con grande amore. È un amore così grande da non spaventarsi di fronte alla persecuzione, alle incomprensioni. Se quando annunziamo il Vangelo, se annunziamo il Vangelo, se quando facciamo le cose che sono secondo il Vangelo qualcuno ci viene contro, ci attacca e come nel caso di Puglisi lo ammazza Puglisi e così anche altri sono stati ammazzati. Sia che fossero in un cammino specifico di fede, sia anche come impegno di amore. Perché tutti gli uomini che si adoperano per salvaguardare la dignità degli altri uomini, questi sono tutti martiri perché hanno donato la loro vita. E davanti al Signore questo non è una cosa senza conseguenze. Cioè è la risurrezione. Il terzo giorno risusciterà. E con noi questo crediamo. Allora io volevo ricordarlo in questo 25. Abbiamo bisogno di un cristianesimo di cose da fare, cioè di fare. Non abbiamo bisogno di parole. Gesù dice non chi dice molte parole, 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 entrerà nel Regno e dice ma chi fa? E fa, dice Gesù, mettiti dietro a me e seguimi. Seguimi qualunque sia il prezzo da pagare e non ti tirare indietro. Per noi a volte per una stupidaggine ci tiriamo indietro. Per il rispetto umano, per eccetera. Non abbiamo il coraggio di fare le cose che riteniamo che si debbano fare secondo coscienza e secondo il Vangelo. Questo ci chiede il Signore. Una coerenza profonda. Un cristiano deve essere coerente a fine e a fine. E vi auguro una bellissima domenica. Sia lodato Gesù Cristo. Pace e bene. Sia lodato Gesù Cristo. Pace e bene.